Ringrazio tutti, gli spunti sarebbero tanti ma non ne riprendo alcuno perché siamo già due minuti di ritardo e quindi passiamo subito al vivo di questo pomeriggio. Avete visto, abbiamo diviso questo pomeriggio in due sessioni, una prima in cui si parla di progetti e programmi in corso e di prospettive e una seconda come un primo laboratorio, una prima discussione tra noi su modalità di insegnamento, su tematiche che riteniamo sia interessante discutere come esempi del percorso che stiamo per iniziare. Quindi darei via alla prima sessione invitando le professoresse Pascucci, Marini e Zanna a questo tavolo mentre noi liberiamo lo spazio.